benvenuti a breaking science l'innovazione nel tempo di un caffè l'assistenza sanitaria è una delle più grandi industrie europee mediamente raggiunge quasi il 10 per cento del pi ma è possibile unire l'offerta di prestazioni di alto livello all'ottimizzazione dei costi proprio di questo si occupa uno dei tre progetti vincitori del bando ai uomo e società finanziato da compagnia di san paolo e di questo ci parla guido boella che è ordinario di informatica presso l'università degli studi di torino per capire di che cosa stiamo parlando è importante anzitutto introdurre un concetto quello di circular health salute circolare di che cosa si tratta la salute umana dipende strettamente per la salute animale dalla salute delle piante quindi quelle che ci alimentiamo e dal salute dell'ambiente l'idea del progetto è provare a affrontare il problema della salute umana a 360 gradi i soggetti coinvolti sono di tre tipi perché sono ospedali un'industria di trasformazione alimentare e un'azienda agricola in che modo sono coinvolti gli ospedali le aziende sono diciamo i destinatari di questa innovazione perché il progetto non è solo un progetto di ricerca ma un progetto che vuole avere un impatto sul sul territorio ed è strutturato con una tripartizione un progetto sulla salute umana un progetto sulla sull'agri food è un progetto capofila che tira le fila di tutto quanto mettendo a disposizione le infrastrutture e gli algoritmi da andare utilizzare nei sottoprogetti l'idea del progetto è di tenere conto della complessità di tutti gli stakeholder coinvolti dai medici operatori sanitari i pazienti andando a ricostruire il funzionamento di questa città tramite cosiddette tecnologie di process mining quindi non andare a scrivere a ricostruire a mano quali sono i processi funzionamenti ma a partire dei dati andare a ricostruire tutta la molteplicità e la complessità dei comportamenti questo progetto prevede il coinvolgimento di una serie di processi che cominciano a partire dall'azienda agricola una delle aziende agricole di spicco del territorio che cosa succede in questo caso il progetto ha coinvolto l'azienda avanzetti olstein che si occupa di allevamento di bovini di alta qualità è un'azienda che ha investito tantissimo in tecnologie con stalle robotizzate e quindi sono il soggetto ideale per applicare tecnologie di intelligenza artificiale perché hanno a disposizione grazie ai robot e sensori una grande quantità di dati e il loro obiettivo nel progetto è quello di migliorare il benessere dell'animale che poi si va a riflettere anche nella qualità poi del prodotto che arriva sulle nostre tavole un secondo passo è dato da una industria di trasformazione alimentare e questa nel progetto che ruolo ha foodex è un'azienda di trasformazione alimentare nel progetto ci hanno chiesto di poter applicare sistemi di tracciabilità basati su blockchain alla catena di alla catena di produzione alla filiera agricola e in questo modo la blockchain può contemporaneamente certificare la provenienza delle materie prime e raccogliere dati che andranno dati poi in pasto ad algoritmi di apprendimento automatico di intelligenza artificiale per tenere sotto controllo e possibilmente incrementare la qualità del prodotto ritiene che questo progetto sia un modello esportabile in altre situazioni in altri contesti il progetto non ha solo un'ambizione locale ma vuol proporre un approccio una metodologia che sono scalabili in altri contesti ovunque ci sia la disponibilità di dividere i propri dati allo scopo di migliorare la qualità della cura del paziente e della produzione agri-pid Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti